Ho sbagliato. Io, quando ho creduto di poter riformare la condizione degli uomini con l'aiuto di questo o di quel principe, che mortificazione. Chiedere a chi ha i poteri di riformare i poteri. Che ingenuità. E ciò viene confermato dai testimoni delegati Francesco Pietrasante e Fra Benedetto Mandina, i quali controfirmano i verbali dopo averne verificate ed attestata la conformità al testo stabilito da questo Santissimo Tribunale. Tenete più paura a voi. Che ha detto? Avete più paura a voi. Ha detto avete più paura a voi. Ha detto avete più paura a voi.